Basta, questi pioghi. E noi stiamo arrivando all'arriano, a me piace molto. Che stanno fotografando qui? E' in Europa. Guarda che bello. Eccoci arrivati al castello. E questo è il castello? Sì. Adesso andiamo a visitare. Non è il castello medievale che ho visitato a Malbock, ma è anche bello. Guarda gli orsi. Aspetta. Cosa è la fotografia? Ah, il ragazzo dove dormiamo noi ci ha spiegato che in Varsavia c'è molti, molti parchi. E' bellissima da camminare a piedi. Purtroppo il tempo, diciamo che non c'è amico. E questi sono gli orsi di tutte le nazioni. Andiamo a cercare che c'è quello italiano, vieni. Quella è un punto per creare informazioni giustiche. E prendono anche dollari ed euro.